Partendo proprio dal Magistero di Papa Francesco e dall'esperienza vissuta nel convegno di Firenze, quest'anno anche, come alcuni di voi già sapranno, ho inteso proporre l'esperienza della lezione divina uscendo dalla cattedrale, perché è bene che sia il Vescovo che vada in giro nelle parrocchie della Diocesi, per cui ogni lunedì, come già da anni si vive questa esperienza nella nostra Diocesi, ogni lunedì in alcune parrocchie di Teramo. Il tema che si approfondisce è Dio misericordioso, attraverso pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento. Mentre durante la Quaresima, e qui girando in altre parrocchie, ma fuori la città di Teramo, delle Foranie, sarà misericordiosi come il Padre, che poi è il programma che Papa Francesco ci ha dato per l'anno giubileo della misericordia. Cioè, non solo scopriamo il Padre che ci perdona, ma da Cristo impariamo a diventare anche noi misericordiosi con il Padre. E quindi ripercorrendo, per esempio, tante pagine evangeliche, come quelle del figlio al prodigo, del buon pastore, come quelle che ci fa vedere Gesù seduto al pozzo a parlare con la Samaritana, o ad incontrare Zaccheo. Insomma, quelle pagine nelle quali impariamo a farci prossimo, cioè a vivere la misericordia come un avvicinarci noi a coloro che possono essere nella necessità, nel bisogno, che magari non hanno ancora il coraggio di chiederlo. Ma noi sappiamo, o intuiamo, che sono coloro che hanno bisogno di vedere questo volto gioioso di Cristo attraverso il volto di gioia del fratello, della sorella, del sacerdote, del presbitero, del vescovo, dell'amico che gli dice, coraggio, continua il tuo cammino perché Dio ti ama e perché la speranza deve abitare la tua vita. Grazie a tutti.